Si chiama Delirium Room ed è un progetto innovativo per la presa in carico di persone in stato confusionale acuto, detto appunto anche delirio o con disturbi comportamentali in demenza. Il delirium è uno stato di emergenza medica perché a fronte di questo stato confusionale che può essere appunto con agitazione o molto spesso anche invece con sopore, quindi più difficile da riconoscere, c'è una causa importante dietro, una causa medica o un effetto farmacologico che vanno riconosciuti e trattati tempestivamente. La Delirium Room adesso è arrivata anche all'ospedale San Donato di Arezzo, il primo a dotarsene in Toscana ed uno dei pochi in Italia ad aver portato avanti questo progetto. Il paziente viene ricoverato quindi a una stanza che non è una camera di ospedale, è una stanza amichevole come la sua camera di casa, non risponde agli orari fissi e rigidi dell'ospedale, c'è un angolo cottura, può mangiare giorno e notte quando vuole, c'è un programma di terapia occupazionale, c'è un letto Alzheimer specifico. Tutto è costruito in modo da potersi rilassare, stimolarlo nel recupero, ma in un ambiente costruito sui suoi orari del giorno e della notte e non sui orari rigidi dell'ospedale. Ma non si basa solo su questo, cioè sulla gestione dei pazienti delle istanze dedicate, con questo approccio che è un approccio orientato più, come vi dicevo prima, a capire perché sta facendo il Delirium, ma anche, vi dicevo, un percorso di consulenza. Un progetto realizzato anche grazie alle donazioni dei cittadini con una raccolta fondi nata da un'idea di Giancarlo Felici. Il mio babbo negli ultimi anni della sua vita è stato ricoverato più volte all'interno del reparto di geriatria del San Donato e qui ha conosciuto tutti i progetti tra i quali questo che gli ha interessato sin da subito e quindi ha promosso una raccolta di fondi tra le persone che conosceva, gli enti che conosceva e tutte le sue sinergie per arrivare a questa donazione. Credo che oggi sia una grande soddisfazione per tutti noi. Alle donazioni che erano già pervenute al reparto, ovviamente mancava qualcosa. Il dottor Felici ci ha richiesto un'integrazione e noi, sempre con i soldi dei cittadini, lo abbiamo fatto molto volentieri.